Bella guys, voglio ricordarvi che se volete supportarmi, negozio oggetti, supporta un creatore con il codice PORTU accettate Da ora ogni acquisto che farete vi darà un piccolo supporto, grazie a tutti C'è qualcosa che non è andato Un po' di lag forse Questo è quanto ragazzi Io spero che oggi riusciremo a fare qualcosina Un po' di lag forse Buone con le quali spararmi seriamente Mamma mia ragazzi, che casino, che casino Qui c'è qualcuno La campanellina, mi raccomando guys Mi vede e urla forte da gamer Io non voglio parlare Non voglio parlare oltre di questa cosa Vabbè comunque sta di fatto che succede Davanti ai miei professori La cosa era un po' inquietante Un po' di lag forza Un po' di distruzione Oh monfredo Monfredo Che si fa? Ma io ma bello Come farsi Eliminare da un nemico Tutorial easy Vabbè Vabbè questo C'ha il set di armi Di oro massiccio Direttamente Di oro massiccio Va bene E niente ragazzi Questo è stato il mio primo giorno Di scuola Poi ho già iniziato palestra Sono andato un po' Al centro commerciale A fare un paio di comp Comper Nulla di che Pubblicato pure una foto su Instagram Ragazzi mi raccomando Seguitemi anche lì E questo è quanto ragazzi Per domani C'è un paio di compiti Però vabbè nulla Che non possa fare Nel giro di 20 minuti Oddio La partitina non è male Ma tanto ora perdo Cioè faccio una cappellata Che come al solito Mi fa perdere il game Non è che ci vuole l'arte A capirlo Solo Tre trappole Piccione autistico Che domani va il primo anno di asilo Anche quello ho sentito dire Che è abbastanza difficile Bisogna un po' studiare Però poi Una volta che ho imparato A colorare Nelle formine Si può fa Cioè dipende però È un po' Non è Non tutti lo sanno fare Ci vuole una certa abilità Comunque Non è Nulla su cui si può scherzare Insomma Perché uno dice Vabbè è l'asilo Eh raga L'asilo Guardate che Cioè Ogni modo è paese Ogni fort gamer Sander Cioè Il concetto è quello Oh dai Perché non gli salti addosso Te lo sto distraendo Che palle Un po' di coraggio Mon frate Non tolleva nessuno Non ti preoccupare Eh vabbè Quest'altro Vai sì Ma no C'ero pure entrato Nella struttura Vabbè È stato più facile Di quanto mi aspettassi Safe C'ho solo una jump Sinceramente Non vorrei sprecarla Però mi sa Che finirà sprecata Sì eh Sì Vabbè Ok La safe dove sta Eh no raga Lontano non c'è Oddio Forse se me la faccio a piedi Oh Quanto è noioso Beh, metti la scala? No, ok C'è questo di su Mon frère Ah, sparava a me, sparava a me, va bene Qualche secondo ho sperato che non stesse Wow, che palle, dai, papà, cagami la del cavolo Vabbè, dovrei aver forza sfondarmi la struttura Ci sta Questo è un problemino, ragazzi Perché questo spara la base, capite come fa? Questo è un po' annoying come player, infatti Aspettate, devo fare un attimo una cosa, ragazzi Che sta pure un altro dietro, perciò Che avrò non sono buccato da solo Peccato, devo utilizzare la sua L'ho chiamata un attimo a partire, ragazzi Vabbè 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 Ragazzi Scusate se non sto leggendo la chat Però come potete vedere La situazione non è proprio il top Ah, questa per esempio È stata una grande stronzata Questa è stata una grande stronzata Oh, ragazzi, questo stava senza materiali Ma boh Cioè, almeno mi sto divertendo un sacco, cioè Ah, cadi il fine Mi deve far prendere il high ground per eliminarlo E infatti ci sta il nemico a fianco Lo sapevo io, vabbè Ah, c'è un'altra Ah, c'è un'altra Ah, c'è un'altra Ci ho eliminato un tipo che era molto più forte di questo Ma mi sto a fare problemi Dai Qui possibile chiusura, eh? Rischiata Oh mio Dio Che schifo di play è? Gioco di skybase, dai! Se mi facevano cadere, era colpa sua Mi raccomando, ragazzi Iscrivetevi al canale se non siete già iscritti Attivate la campanellina Mi farebbe davvero molto piacere Se lo faceste Wow, aiutiamo la mitraglietta a scarica Questo è un problema, però, eh? Qui sto giocando molto con le altezze, però, eh? Ah, questo poi sicura com'è che... Dai, che noia che sei Let's fucking go Trappola dietro, tra l'altro, vabbè GG, ragazzi Prima partita della giornata vinta Ci sta davvero un sacco